Il nostro inizio era il mondo musicale essenzialmente acustico. La nostra attività che è nata tanti anni fa si è evoluta nel tempo e noi ci siamo preoccupati di viaggiare nello spazio e nel tempo. Questo disco nasce dall'esigenza di fermare un momento della nostra carriera musicale molto importante perché è un momento in cui abbiamo rinnovato la formazione. Abbiamo ricreato un suono per questo gruppo, un suono che nasca realmente dagli strumenti.